no di arrivare più veloce è questo e dopo vai andiamo esatto sped veloce non lo so vuol giocare con la sabbia va che se arriva affiondato ti c'entra arrivi lì stessi col pezzettino lì stessi col arrivo a farlo come dico io non riesci a prendere la città mi penso che apri perché è quel metro un po' che pagliate non è ... ... ... ... ... ... ... gas 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 allora gas quando arrivi la che fai la curva dopo deve aprire spalancare tutto se non viene su più sì chiaro chiaro che diventa sempre peggio è noi andiamo dove andare su andiamo adesso ti do la mia calamita va ho già capito bravo bravissimo perché è troppo lungo quello lì infatti quell'altro l'abbiamo fatti già più più piccolini più bassi se no è un casino sono sui i velocisti che non amano fermarsi su di qua adesso la dobbiamo tirar su o riscendi e potevano anche andare avanti al sasso bianco è andarla io dopo scendo a vedere dove il mio tombino si no l'ho messo in piedi ora l'ha ruzzato giù fino a qua metà tanto da su riusciamo recuperarlo col quad lascia stare la fogna che dopo te la ritrovi in mezzo alle balle e avanti poi basta a posto via basta tanto lì devi arrivare a manetta mi avete già fatto consumare un litro di benzina fermo questa qui la chiameremo la salita della penitenza gas manetta 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 e allora quindi ancora qua siete a presto a presto